ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video di nail art su tip come vedete di già ho preparato l'unghia ho messo soltanto non ho messo nessun colore praticamente ho messo soltanto il top coat matte quello dell'undead per far diventare l'unghia pacca infatti vedete diverso da quest'altra qua quest'altra luce di questa pacca giallo sgrassata perché oggi andremo a utilizzare poi la matita fatela devo prendere per utilizzare la matita quindi prima andrò a disegnare con la matita e poi passeremo ai colori e andremo a disegnare un volto di un'acola di un'aquila spero che mi viene bene non lo so quanto me verrà beh però speriamo allora vi faccio vedere il gel collo che andremo a utilizzare a londra andremo a utilizzare il pure white il bianco che è il fast f01 poison black fast f16 il nero poi meraviglia classic c87 poetico classic c 104 e il gel colla questo è un gel senza dispersione perché è una bomba i brillantini durano tantissimo che alla fine di quando l'ho disegnato colorato e tutto andremo applicare dei brillantini due brillantini grandi e delle micro perle quelle le bubbles insomma e poi un altro colore andremo a utilizzare il giallo io però per fare il becco io però utilizzerò il colore acrilico perché un giallo come gel color non ce l'ho infatti lo dovrei acquistare un giallo normale semplice niente ok che dirvi e i colori mano a mano come sempre li farò vedere dopo mentre li devo operare niente ci vediamo dopo fino a video come sempre vi lascio a questo tutorial di questo volto di acola quindi a dopo ciao 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 allora questa qui è l'aquila non la metto davanti perché pare che non metta a fuoco pare de no e questa qui è l'aquila mi piace molto come è venuta soprattutto l'occhio è bellissimo proprio e ci sta bene molto questi brillantini con con le micro perle molto bella mi piace veramente tanto come mi è venuta io niente, io spero che piaccia anche a voi se è stato così mettete un pollice in su, sotto al video se volete commentatemi, e noi niente ci vediamo per questo prossimo video, ciao!